Deve entrare Brigidino, dopodiché saremo pronti. L'ultima chiamata per il Parioli. Tutto pronto. Partiti i cavalli del premio Doria sul miglio in pista piccola. Perde un po' la partenza il favorito Ranger in Paradise. Parte bene Brigidino, subito soppiantato in testa da Voices from War. Poi in seconda posizione il grigio Twin Grey che ha al suo interno Ranger in Paradise che è appunto recuperato dalla partenza lenta. Al cui esterno gravita anche il giocato, racconterò di te. In quarta corsia gravita il Dormelliano Arvie, poi Denarius Ambientalist a chiudere il gruppo. Dopo una prima parte piuttosto tattica Fabio Branca decide di andare in testa con Arvie, quindi prende del margine spendendo anche un pochino. Ma comunque sia andando subito una buona posizione. Quindi Arvie adesso è davanti. Reconfonti di Voices from War. Ancora racconterò di te. Ranger in Paradise, Denarius, Brigidino, Ambientalist, Twin Grey e chiude il gruppo Candide-Monteur. Siamo a tre quarti della piegata con Arvie che adesso ha respirato. Voices from War che non lo perde di vista. Raccconterò di te che galoppa in terza corsia. Poi la seconda linea formata dall'interno verso l'esterno da Ranger in Paradise. Poi Brigidino, Denarius all'interno ci va Twin Grey. All'esterno di tutti ci va Ambientalist, Candide-Monteur che chiude il gruppo. Siamo a 500 dal palo con Arvie ancora davanti nei confronti di Voices from War. Dall'esterno ci prova Ranger in Paradise. Raccconterò di te che in questa frazione è rimasto lì. All'interno ci prova anche Brigidino che deve trovare la schiena giusta. All'esterno di tutti anche Denarius. 200 dal palo. Ranger in Paradise che si è messo sulle gambe. Passa di slancio. Ranger in Paradise che adesso è davanti nei confronti del compagno di training Voices from War. Quando siamo a 50 dal palo. Ranger in Paradise. Ha messo già tutto in chiaro. Voices from War al secondo per il terzo Arvie. Vince dunque la terza corsa in figlio di Oli Roman Emperor al quarto tentativo. Dopo il terzo posto nel Campobello ci ha messo un po' a mettersi sulle gambe ma poi quando lo ha fatto si è staccato netto. Dario Vargio in sella. Il training è quello di Alduino Botti. I colori sono quelli dei Dio Scuri. Al secondo posto Voices from War. E per il terzo Arvie 7-9-2 l'ordine d'arrivo provvisorio ufficioso del premio Doria la quinta della giornata. Grazie.